benvenuti in questo nuovo video andiamo a vedere dove si trova il fortbyte numero 2 si trova esattamente qui eccolo qui lo prendiamo e abbiamo finito fortbyte 2 completato comunque questo video e finisci qua spero che ti sia piaciuto se così iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fortnite lasciami un like per supportarmi commenti e condividi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi